yeheee rallenta un po' yuppiii torch cane stupido pronto amico? nom 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 va a prenderlo ok su partiamo forza torch abbiamo del lavoro da fare ciao ragazzi felice giorno del ringraziamento willefant stava cercando di raccogliere la zucca più adatta per la torta ma guardate quella zucca gigantesca è troppo grande anche per l'anima car più forte il povero willefant ha rotto la sua pala e ora non vorrà tornare a casa senza la zucca che avete chiesto a willefant serve il vostro aiuto ora dovete riparare la sua pala e trovare una soluzione per portare quella zucca a casa anima watch pronto anima tool controllato pronto all'azione torch arrivano i soccorsi su partiamo e via siamo partiti preparati ad atterrare torch e via guidare così divertente cavolo lo quasi colpito ehi amico ehi amico non preoccuparti va tutto bene amico oh fin penso che ti sentirai meglio ora ehi amico piano piano no 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 wow bravissimo sembra che ci serva una mano giusto anima watch attivato anima 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 ecco che arriva il nostro amico ad aiutarci magnifico su partiamo diamoci da fare fate il tuo meglio amico stai bene amico wow che rompicapo chiedi sempre aiuto quando sei nel bisogno forza deve funzionare il team toolbox non fallisce mai ahahahahahahahahaha Squadra vincente per sempre! Bosh, vedi qualcosa? È ora di andare a giocare! Va a prenderlo! Oh, perbaccolina! Arriva il nostro amico ad aiutarci! Team Toolbox, bisogna che vediate una cosa! Tornate subito a casa! Forza Torch, abbiamo del lavoro da fare! Ciao Team Toolbox, c'è un'emergenza al Path 3! Bill Dozer stava cercando di estrarre la spada Excalibur dalla sua roccia, ma ha tirato troppo forte e i suoi cingoli si sono rotti! Gli ingranaggi sono ovunque e ora non può muoversi! Bill Dozer ha bisogno di aiuto per recuperarli tutti e rimetterli insieme! Fate il più veloce possibile, Team Toolbox! Un'anima car vi sta aspettando! Anima Watch, pronto! Anima Tool, controllato! Pronto all'azione Torch! Arrivano i soccorsi! Su, partiamo! E via, siamo partiti! Che cosa troveremo questa volta? Cos'è successo qua? Sei pronto Torch? Va a prenderlo! Adoro aggiustare le cose! Adoro aggiustare le cose! Wow, che rompicapo! Ah, grazie amico! Lavoro di squadra per sempre! Torch e io troviamo sempre la soluzione! Dovete andare da lui e cercare un modo per rimetterlo dritto! Presto! Presto! Per questo ci serve ancora... Chiamiamo un amico! Anima Watch attivato! Anima Watch go! Wow! Dents با 운동 Pro cerca di non romper niente amico! Usa la tua forza Wow, sei il più forte Questo non ci fermerà Forza, Torch Vai, 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 vai È abbastanza Continua così È stupefacente Il Team Toolbox non fallisce mai È ora di andare a giocare Davvero? No, no, no Grazie, amico Squadra vincente per sempre!